Lo storico e critico musicale Paolo Isotta a Taranto per parlare di Giovanni Paesiello al festival che celebra il grande compositore tarantino nel bicentenario della scomparsa. L'appuntamento venerdì sera ad Arco Paesiello nella città vecchia dove Isotta ha tracciato un profilo artistico e umano del genius loci al quale ha dedicato alcuni passi del suo ultimo libro, altri canti di Marte. Il critico più temuto d'Italia, ironico, erudito e polemico ha messo a fuoco virtù e debolezze di Paesiello, un caso, dice Isotta, nel quale grandezza artistica e umana non coincidono. In altri canti di Marte l'autore ricorda tra l'altro l'esecuzione al Fest Spillhouse di Salisburgo con la direzione di Riccardo Muti della Missa Defunctorum di Paesiello, pagina proposta nei giorni scorsi nel Duomo di San Cataldo nella versione integrata. L'incontro ad Arco Paesiello è stato un volo ad alta quota non solo sul mondo delle note ma anche sull'arte e la bellezza in generale. Il libro, un canto d'amore per la musica e per la vita, nasce infatti come continuazione della virtù dell'elefante. Contiene le più profonde riflessioni dell'autore sulla sua grande passione. Vi sono le pagine sui prediletti Alessandro Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, Verdi e Paesiello appunto, oltre ad una lettura del Parsifal di Wagner che apporta nuova luce sul capolavoro, anche se l'indagine di Isolta si è rivolta particolarmente al novecento musicale.